L'avvertenza della Treofan di Battipaia nel Salernitano infiamma ancora il dibattito politico. Oggi l'incontro al Mise sulla crisi produttiva e occupazionale in seguito all'acquisizione della fabbrica da parte del gruppo indiano Gindal, che ha bloccato le produzioni. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, conferma il sostegno della regione ai lavoratori e lancia dure accuse al ministro del lavoro Di Maio. Quando si fanno le visite natalizie nelle fabbriche, poi bisogna avere la serietà di seguire le vertenze. Perché è ora di farla finita con la propaganda. Occorre poi lavorare per risolvere i problemi. La regione è stata presente. Abbiamo chiarito che siamo pronti a stanziare 18 milioni di euro nell'ambito di un contratto di programma per dare una mano all'azienda ad andare avanti, ma a condizione che sia tutelata la realtà di Battipaia. Altrimenti non daremo un euro. Intanto la deputata del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, e il consigliere regionale, Michele Cammarano, precisano Ormai è chiara la strategia messa in atto da tempo dalla Ginda, il proprietario della Treofan di Battipaia, dar vita a politiche aziendali finalizzate a giustificare l'inevitabile chiusura dello stabilimento con la perdita dei posti di lavoro per oltre 80 persone, mentre il ministero fa sapere che proseguirà a monitorare la situazione in vista del prossimo incontro in programma il 24 gennaio, acquisendo tutti gli elementi utili a trovare una soluzione positiva al tavolo di crisi. Grazie a tutti.